In coerenza con il Piano di Comunicazione del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, si terrà venerdì 22 dicembre presso i locali del CAST, Center for Advanced Studies and Technology dell'Università di Chieti, un importante evento formativo ed informativo rivolto a tutta la popolazione della nostra regione, sugli screening oncologici organizzati che ci salvano la vita. In questa occasione operatori delle quattro ASL regionali rappresenteranno lo stato di avanzamento dei tre programmi di screening oncologico che sono in questo momento riconosciuti come livello essenziale di assistenza, lo screening del carcinoma mammario, quello del carcinoma della cervice uterina e quello del carcinoma del colon e del retto. Inoltre sarà anche rappresentato lo stato dell'arte di un progetto sperimentale da parte della rete italiana dello screening del carcinoma polmonare. In questo caso il progetto di sperimentazione viene portato avanti nell'ambito dell'intero territorio nazionale in un solo centro della nostra regione che è attivo presso l'ospedale civile dello Spirito Santo di Pescara. È un evento importante e quindi non mancare. Ripeto, gli screening oncologici organizzati ci salvano la vita.